Lo affrontiamo con delle risorse più disponibili per investimenti, per aiuto alle imprese, per aiuto ovviamente allo sviluppo dell'economia. Dalla transizione ecologica e digitale all'internazionalizzazione, ma anche la promozione turistica e culturale del territorio e non solo, molteplici gli ambiti di intervento in questo 2023 per la provincia dolomitica della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, grazie ad un tesoretto di oltre 7 milioni di euro. Tutto ciò in uno dei contesti più industrializzati d'Italia, dove operano 18.300 fra imprese e filiali, che danno occupazione a quasi 72 mila addetti. Stiamo investendo anche su temi direi particolarmente attuali, come il giorno d'oggi, che riguarda la digitalizzazione, le comunità energetiche e non solo, la cyber security e ovviamente sempre con l'attenzione verso l'appuntamento di Cortina 2026. Un sistema economico che corre dunque, trainato dal turismo e dall'occhialeria, con lo sguardo certamente proiettato al grande evento olimpico, fra le iniziative dell'ente camerale e il coinvolgimento del mondo della scuola. Generazione 2026 è lo strumento nostro per avere i giovani vicino ad un evento importante come le Olimpiadi, ma non solo, ma averli vicini al mondo dell'impresa. Tramite l'osservatorio economico inoltre, l'ente camerale affronterà per cercare di invertirne la rotta, quello che da sempre rappresenta un dramma della provincia dolomitica, lo spopolamento. Vorremmo proprio fare un'analisi puntuale e capire quali sono gli indici che ci dicono che se queste cose succedono, quella è un'area veramente a rischio. Un ventaglio di azioni dunque teso al sostegno del fare in prisa e del vivere in montagna, in un momento quanto mai delicato a causa della crisi geopolitica attuale. Noi sappiamo che i nostri imprenditori con le difficoltà sanno tirare fuori il meglio di loro stessi, non dipende solo da loro ovviamente, però Belluno ha dei numeri importanti e suddistretti importanti, quali la localeria, il freddo, la plastica, questo ci fa ben sperare. In questo periodo poi il prezzo del gas è diminuito, quindi una nota positiva. dobbiamo però sperare che quanto prima cessi la guerra, cessino queste tensioni.